ecco qui a destra c'è piazza euclide questo è lungotevere acqua cetosa a sinistra si va a ponte milvio questo è il centro l'ingresso è lì alla destra ma c'è anche un altro ingresso ecco questa è la sala vista da fuori l'ingresso è qua e come vedete il parcheggio è molto molto ampio che tutto anche quel piazzale là in fondo dietro il signore